Oggi c'è un tema, il motivo per il quale l'ho chiamata, e c'è lei un oncologo rispettabilissimo e insomma con un curriculum tanto di cappello, che però sta sicuramente lavorando in questo periodo su una questione che leggiamo anche su tutti i giornali. Vediamo subito la DN Cronos che ci dice «Tumori crescono le forme aggressive nelle giovani donne e poi qui si affrettano a parlare di stili di vita sotto accusa». Poi lei ci dirà. Stesso su Rai News, i tumori colpiscono sempre di più i giovani e gli oncologi dicono l'aumento dei casi negli under 50 addirittura. Guarda un po', esatto. Tumori aggressivi in aumento esponenziale tra ragazzine e giovani donne, gli organi più colpiti, lo studio. Insomma, professore, cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? E soprattutto, abbiamo una vaga idea del perché? Prego. Grazie. Si ricorderà che avevamo affrontato questo tema nel corso dell'ultima volta che mi avete intervistato. Sì, vero. A quel tempo io avevo scritto un articolo sul sussidiario dove spiegavo le ragioni di questo fenomeno che oggi è assodato. Cioè, qual è l'aspetto paradossale? Che assistiamo da almeno 16-17 anni ad un incremento significativo dei tumori nelle fasce di popolazione più giovani. Quanto è l'incremento? Più 80, più 90 per cento. Sono numeri drammatici. Questo solleva due interrogativi. Il primo, perché a fronte di un ambiente inquinato, alterato, per i suoi diversi aspetti, sono colpite solo le nuove generazioni e non quelli più anziani. Questo paradossale... E perché, professore, perché? Ecco, ci arrivo. Prego. Il punto è, vede, che un agente cancerogeno ha un'azione diversa in relazione all'età di sviluppo morfogenetico dell'organismo. Mi spiego con un esempio triviale. Se io do un cazzotto a lei, ottengo un tipo di danno, procuro un tipo di danno. Se lo do a un neonato, l'ammazzo. Certo, certo, certo. D'accordo? Allora, che cosa sappiamo noi? Sappiamo innanzitutto che esiste una quota di fattori cancerogeni, a cui quelli della mia generazione, quelli che hanno più di 50 anni ovviamente, non sono mai stati esposti. E questi fattori sono, per cominciare, l'inquinamento degli alimenti e nelle acque per un fenomeno progressivo di concentrazione dei cosiddetti distruttori endocrini. Sono cioè residui di farmaci non biodegradabili, soprattutto per esempio gli ormoni, che hanno un'azione dirompente nel corso dei primi mesi e dei primi anni di vita. Se io per errore prendo una pasticca di estrogeno, per esempio, nel caso mio tutta più mi protegge dal tumore della prostata, per fare una battuta. Ma se la prendo a cinque anni, mi si sviluppa la ginecomastia. Cioè, questi ormoni hanno un'azione che è diversa in relazione allo stadio a cui è giunto lo sviluppo dell'organismo. Lo stesso vale per altri alimenti, lo stesso vale per l'inquinamento luminoso e per tanti fattori che sono venuti emergendo e sommandosi nel corso degli ultimi trent'anni. Sottolineo il sommandosi, perché noi non studiamo mai come possono agire anche concentrazioni al di sotto di quelle ritenute pericolose, quando queste concentrazioni mettono in gioco più fattori che fra di loro possano sviluppare sinergia. Quindi questo è il primo punto che ci dice che abbiamo di fronte una prospettiva drammatica. Dramatica perché noi vediamo per la prima volta tumori. Io ho visto l'altro giorno un tumore del pancreas in una ragazza di 28 anni. ho casi giovani di 24 anni col tumore della bocca, un tumore che in genere si vede a 70 anni in coloro che sono esposti ad alto rischio, forti bevitori, forti fumatori. Questa ragazza per esempio di 24 anni è un caso, ma lo prendo a paradigma, non fumava, non beve, non beve, niente. Quindi questo è il primo punto, queste le vere emergenze, non le malattie virali, microbiche che servono solo a vendere vaccini. È chiaro il concetto? Mi ha tolto la domanda dalla bocca che le stavo per fare. Noi ci preoccupiamo di queste cose e non di quella... Non parlo di vaccino. No, no, no. Anche se dopo una domanda gliela debbo fare, però più tardi. Prego. Secondo e chiudo. Secondo e chiudo. Questi tumori sono diversi, cioè il tumore della prostata che insorge in un giovane maschio di 30 anni è incomparabilmente più aggressivo e quindi chiede una sforza e strategie terapeutiche rispetto alle quali stiamo facendo poco. Perché stiamo facendo poco? Ma perché nessuno parla di questa emergenza, perché non ci vengono messi a disposizione i fondi, perché i medici non vengono preparati, perché il tema ogni tanto arriva sui giornali. Ma lei, vada a vedere, io ho lanciato questa allarme un anno fa sul sussidiario. È uscito poi qualche articoletto sul Corriere della Sera, su qualche altro giornalore e poi nulla più. È vero, è vero. Allora il punto è che su questo occorre riorientare la sanità, su questa che è un'emergenza.